Filippo Paolini, 66 anni, è il candidato alla presidenza della provincia di Chieti. Il mio sindaco di Lanciano proverà a sovvertire l'esito della votazione che vede il centro-sinistra in vantaggio e che giorni fa ha presentato la candidatura di Francesco Menna, sindaco di Vasto. Una vecchia canzone di Giorgio Gabbro, La libertà. La libertà è partecipazione. Se vogliamo poi determinare il futuro di questa provincia bisogna partecipare. Io mi sono reso disponibile pur sapendo che sono stato eletto da 20 giorni, da 30 giorni e naturalmente all'inizio l'amministrazione è complessa, è difficile, bisogna fare tante cose urgenti. Però gli amici, non potevo dirti no agli amici. Appoggiato dal centro-destra unito, Paolini è sostenuto da due liste civiche, la lista Paolini presidente e il territorio con Paolini. La provincia che in passato è stata progressivamente svuotata a causa di una riforma incompiuta avrà il compito di essere un punto di riferimento per comuni e istituzioni chiamate ad affrontare le opportunità del PNRR. Le province che perderanno questo treno faranno un danno a tutti i comuni che fanno parte della provincia. Ci vorranno professionisti, sarà possibile prendere persone che hanno capacità per poter gestire queste risorse, senza di questo significerebbe perdersi per strada perché oramai le risorse escono soltanto da quelle. Poi una stoccata al voto ponderato. Non vedo che differenza ci possa essere tra uno che vota di Lanciano rispetto a uno che vota di Montelapiano. Sono realtà diverse, ma sono realtà che integrano una grande realtà che è quella della provincia. Per cui personalmente sono per il voto uno vale uno. Non è possibile, ma questo lo dico non perché non abbiamo i numeri, ma perché qualsiasi persona di buon senso capirebbe che oramai questa riforma tagliata a metà con questa riforma strana sulla quale perlomeno dopo il referendum si torna a parlare in un certo modo a questo punto mi sembra assurdo che si voti in maniera ponderata.